Il segreto è sicuramente quello di lavorare tanto, comprendere che deve essere una famiglia al servizio dell'azienda e non un'azienda al servizio della famiglia e rispettare i ruoli. Devo dire la verità è stata innanzitutto una cosa emozionante perché spesso ci confrontiamo, discutiamo, parliamo ma sempre in camera caritas, chiusi da solo. Adesso è uscito fuori secondo me un qualcosa di molto interessante, sono contento. L'evento è sempre bello, è sempre interessante, ci sono sempre degli speaker che ti danno qualche spunto, qualche input che ti fa riflettere e quindi credo che sia poi l'obiettivo principale venire qui e tornare a casa con delle riflessioni importanti. Ripetete la frase e continuate il vostro discorso senza problemi. Poi in attagliata. Esatto, poi in posto sistemiamo tutto. Vado? Vai, con mio figlio. Qual? 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 down sela